Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il cuore di tutti, siamo pronti dalla tua volontà, e la tua volontà, e la tua volontà, e la tua volontà. Faccio oggi il nostro padre colombiano, riuscire a noi in ospire, come noi rilindriamo ai nostri vittori, e non ci vede con l'inizazione, ma libera e nella madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è il tuo nome della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e il Signore è con te, Io non sono stati puntiati, ma lo saranno, vedete qua il Signore che è meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.